Gli attaccanti ha segno anche oggi, Cortesi, anche lui, ha messo il sigillo appena entrato. Soddisfatto direi. Lo chiedi a lui, dopo viene su, penso che sia contento. No, è soddisfatto tutta la prestazione del tuo attaccante. Penso che si girava un'altra tre quarti d'ora intorno al campo. No, sono contento, ma Cortesi lo conosco dal ritiro, è lì il ritiro con noi. Si trattava solo di aspettare, non metto di dargli la possibilità di farsi vedere. Non è uno sconosciuto che mettiamo in campo. Cortesi, Sala e Triveri erano tutti in ritiro con noi a Lugno. È gente che conosciamo bene. Sono momenti in cui magari si allenano con noi, momenti in cui si allenano con la Barretti, però sono ragazzi validi e soprattutto molto, molto seri. Adesso lo sguardo ad Arezzo, immediato la concentrazione sulla partita. Stasera lasciami mangiare con calma, faccio due cazzate senza pensare al calcio, dopo domani penso all'Arezzo, ho l'ansia ormai, riesco a tirar fuori il naso alla casa.